Allora, benvenuti sul mio canale, questo è un video abbastanza improvvisato perché guardate che ora è, cioè, meno 20 alle 7 di sera è un video improvvisato perché, allora, sono appena tornata dal veterinario, chi si è appena iscritto forse non lo sa o boh, chi non vuole sapere non vuole sapere, ma insomma, mia mamma gestisce una colonia felina colonia felina che cosa vuol dire? Sono, è un insieme di gatti, la colonia diventa colonia quando ci sono due o più esemplari di gatti ma diventa colonia felina quando vengono censiti, registrati, gli viene messo il microchip dall'ULS e vengono castrati e sterilizzati da quel momento è una colonia vera e propria Ho aperto una raccolta fondi proprio per aiutare nella gestione di questa colonia perché è una colonia che comprende circa 20 gatti dovrebbero essere 20 giusti, io li ho scritti tutti, c'è una pagina Facebook dedicata, la potete trovare cercando una montagna di gatti e la trovate anche su Instagram, anche se non è una pagina seguita, però io l'ho creato allo stesso e è più seguita su Facebook che su Instagram Comunque, appunto, sono 20 gatti Cosa ti è, amore? Oh, Pippo, aspettate Ok, ho Pippo che ha appena vomitato sotto la panca, cioè nell'angolo della panca, no? Un posto più comodo, no? Nell'angolo, non so neanche perché Boh, vabbè Comunque, dopo guardo che cosa ha Stavo dicendo Questa colonia comprende circa una ventina di gatti Dovrebbero essere 20 giusti Tra di voi c'è chi ha donato dei soldi Potete vedere chi ha donato Potete vedere quanti soldi sono stati donati Perché ho aperto la raccolta fondi su Paypal E quindi è visibile Io ho scelto di lasciare visibile chi dona e quanti soldi Ovviamente chi dona può anche restare nell'anonimo Questo non c'è La decisione è di chi dona Con questi soldi Adesso poi vi farò magari vedere la ricevuta Con questi soldi abbiamo portato Gastone Che è un gatto della colonia L'abbiamo portato dal veterinario Perché aveva un grosso problema Di un'infezione, irritazione, infiammazione Tutto alla pelle E quindi quest'oggi l'abbiamo portato Il veterinario è sempre molto gentile Quello lì è il proprietario della clinica Veramente molto bravo Sa trattare E niente Lui ha detto che potrebbe essere Vabbè l'HIV come sappiamo tutti Potrebbe avere il diabete Potrebbe avere qualsiasi malattia Però per il momento Gli ha fatto antibiotico Quello che vale due settimane La puntura che vale due settimane Che la faccio fare anche ai miei gatti Quando hanno bisogno Perché è comodissima Gli ha fatto l'antinfiammatorio Che dovrebbe calmargli anche il prurito Che ha tutto qua Perché se continua a grattarsi La ferita ovviamente non può guarire La ferita si è estesa molto Da quando vi ho fatto vedere Nelle stories Cioè è diventata più grande Fa impressione Quindi non No Per salvarvi il cuore E tutto Non vi metto foto Video Niente Gli ha fatto anche l'antiparassitario Via puntura Gli ha controllato le orecchie Ha effettivamente Aglio e gli acari Nell'orecchio destro Che corrisponde alla ferita La parte della ferita Quindi potrebbero essere stati anche gli acari E fargli tutta questa cosa E adesso per due settimane Bisogna Lo farà mia mamma Perché io E' lei che ce l'ha in gestione a colonia E' lei che ha il gatto sotto mano Bisogna tenerlo il più pulito possibile Disinfettarlo con il betadine Come era stato suggerito Da Non da voi forse O sì Non mi ricordo Comunque Bisogna disinfettarlo sempre così Praticamente Tutti i soldi Quasi Sono andati Per questa prima Visita Che vabbè Ha compreso Tutta sta roba Cioè tre punture Eccetera eccetera Quindi Gli ha fatto anche il libretto del gatto Anche se non è un gatto di proprietà nostro Di mia mamma Comunque le ha fatto il libretto Perché dobbiamo riportarlo E tra due settimane Per controllare Se non dovesse aver beneficio Da questa cura Dovranno Dovranno sedarlo E pulirgli loro La zona Quindi Lasciamo perdere Mi fa impressione solo a pensare Su questa cosa Però ecco Ecco Solo dopo magari Si faranno le analisi Però per il momento Lui vuole vedere Se reagisce bene A questa cura C'è questa carta qui Cioè non so se voi capite qualcosa Comunque sono le cose che dobbiamo fare Dare Eccetera eccetera Questo invece è il prodotto per le orecchie E per gli acari Perché lui appunto ha gli acari Questo è la ricevuta La fattura Scusate La fattura Di oggi 80 euro C'è la data Del 274 Questa clinica Cioè qua sono veramente bravi Noi facciamo un po' di strada in più Andiamo fino a Lozzo Perché Abbiamo scoperto questo veterinario qui Che è una bomba C'è veramente bravo Si vede che ha passione Per il suo lavoro È anche un cacciatore Lui tra l'altro Però È veramente molto bravo A curare gli animali E ha modo di trattare Sia gli animali Sia I proprietari I padroni degli animali Quindi niente Mi sembrava giusto Farvi vedere queste cose Per spiegarvi appunto Che questi soldi Sono andati effettivamente Per gastone Comunque Accettiamo anche Cibo per gatti Antiparassitari Se volete Cose che possono servire Ai gatti Coperte vecchie Maglioni di lana vecchi Insomma qualcosa del genere E noi accettiamo anche quello Ovviamente con i soldi Possiamo portare i gatti O prendere medicine Che magari servono O portarli dal veterinario Perché Sì Venti gatti Sono effettivamente Una grossa spesa Sia in termini di cibo Sia poi Quando sono da curare Queste cure qua Dovrebbero essere sostenute Dal comune Dallo stato Perché comunque Sono Gatti di una colonia felina Sono proprietà Dello stato italiano Dello stato dove sono In questo caso Dello stato italiano Però Non vengono Chi gestisce Le colonie feline Non viene aiutato Viene aiutato Per le castrazioni Quello sì Le sterilizzazioni Però Per le altre cose Se vogliono Se hanno voglia Se hanno tempo Ti aiutano E se no Ti devi arrangiare E in questo caso È stato così Perché Se noi avessimo dovuto Aspettare i veterinari Dell'ULS Chissà Chissà Quando sarebbero arrivati Ringrazio in particolar modo Le persone che hanno Donato questi soldi E Noi li abbiamo utilizzati Proprio per quello Che è stato chiesto E niente Poi Appunto Ci saranno altre medicine Da comprare Non so neanche Quanto costino Sottolineo questo I gatti Di una colonia felina Non hanno padrone Sono gatti selvatici Ma sono registrati Censiti E microcippati Quindi All'anagrafe felina Per cui Non hanno padrone Ma sono in gestione Ad una persona Che diciamo Fa da padrone Però in realtà Non lo è Questa cosa So che non è chiara C'è molta ignoranza Sulle colonie feline Purtroppo Però ecco Io voglio divulgare Questa cosa Voglio far conoscere Questo mondo Di gatti Anche agli amanti Solo dei cani Perché è giusto Che sappiano Che se succede Qualcosa A questi gatti Ci sono Delle conseguenze Anche gravi Poi la legge Parla molto chiaro I gatti Delle colonie feline Sono molto tutelati Per cui Se dovesse succedere Qualcosa C'è parte subito La denuncia È giusto Dare del cibo Ma non è giusto Lasciare ciotole In giro Comunque i gatti Hanno Una loro sede Dove mangiare Le colonie feline Nascono perché Perché c'è ignoranza E perché la gente Non vuole castrare Gli animali E questo è un errore Enorme Sia per la loro salute Sia perché poi Cioè Ne nascono tantissimi Cioè Le gatti arrivano a fare Due Due cucciolate All'anno Contate che una cucciolata In genere È di quattro gattini Per cui Rendetevi conto Come crescono Le colonie Cioè Come crescono I gatti Ce ne sono una marea Niente Condividete questo video Se volete Aiutarmi In questa raccolta fondi I soldi Vanno ai gatti E ve lo dimostrerò Insomma A meno che non mi dimentico Cioè Mi butto lo scontrino Che insomma Ecco Comunque vanno ai gatti E E niente Questo è tutto Vi ringrazio Ci vediamo al prossimo video Grazie per l'attenzione Ciao Ciao